Oggi è il 14 settembre 2021, sono qui a Saint-Tropez e sto molto bene. Oggi è una giornata un po' nuvolosa, però diciamo che un po' di sole c'è. Eccomi qua. Dunque quest'anno le vacanze le ho fatte un po' a Ponzone, poi un po' in Abruzzo, e ora sono qui a Saint-Tropez dove mia zia ha 20 km una casa, non è un appartamento, è proprio una villetta. Quindi sono 30 anni che non venivo qui. Adesso sono tornata da queste parti. Ti auguro tutto il bene del mondo e ricordo con molto affetto le vacanze dello scorso anno. Ciao! Ciao!